C'è sempre il suo fascino, anche se è un torneo che noi facciamo solo per divertirci, per passarci il tempo. Dove essere un torneo estivo, comunque, siamo andati oltre, non per colpa giustamente dell'organizzazione, ma per colpa di impegni di ragazzi che partecipano, giustamente, essendo amatoriale, ci sta. Che torneo è stato? Un bel torneo, il calcio a sette per me è affascinante, diciamo per le mie caratteristiche, quello che io preferisco. Però anche l'organizzazione in questo torneo è stata buona, è stata ottima. Se devi fare un pronostico prima della partita, chi è che vince, la tua squadra o gli avversari? La mia squadra. Sei sicuro? Certo, sono sicuro. Abbiamo messo il nostro impegno e siamo arrivati fino in finale. Che impressione hai avuto di questo torneo? Che te ne è sembrato? Dobbiamo ringraziare la storia Giorricciola per averci fatto giocare qui a Campa Sette, perché è un campo spettacolare. Niente, questo è tutto. Siete già pronti? Ovviamente questa sera si pensa alla finale, ma siete pronti per prendere parte anche al prossimo torneo? Noi siamo nati pronti. Noi siamo nati. Noi siamo nati. Noi siamo nati. A presto 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 A presto